Bene, buon pomeriggio a tutti, sono Samantha Parise, sono un Apple Professional Learning Specialist, Apple Distinguished Educator e oggi vi parlerò del programma Apple Teacher. Prima però di introdurvi al programma voglio anche dirvi cosa faccio nella vita. Oltre ad essere appunto un Apple Distinguished Educator che sta a significare che utilizzo l'iPad nella didattica e un Apple Professional Learning Specialist, ossia che sono certificata Apple per fare dei corsi di formazione per gli insegnanti, i dirigenti scolastici, per il mondo della scuola e non solo, sono un insegnante. Sono un insegnante che da moltissimi anni, dal 2010, utilizza l'iPad nella didattica e invece il digitale è dal 2000. Quindi mi sono avvicinata a questo mondo perché è consapevole che già allora, negli anni 2000, quando ancora ero un po' più giovane, vedevo che i miei ragazzini a scuola sono stati per molti anni nella scuola primaria, ora sono nella scuola secondaria di secondo grado, mi raccontavano che utilizzavano i PC a casa o i videogiochi eccetera eccetera e quindi già nel 2000 io ho cominciato a fare degli studi, dei master universitari, il Politecnico di Milano e quant'altro, proprio per capire come mai i ragazzi di allora utilizzavano tanto questi strumenti e mi sono proprio detta ma se loro li utilizzano come docente forse io devo anche capire cosa utilizzano perché altrimenti il mio gap con loro, anche se all'epoca ero giovane, lo sentivo molto ampio e quindi mi sono avvicinata a questo mondo. Negli anni, quindi nel 2010 è uscito il primo iPad, Steve Jobs l'ha presentato al mondo, quando l'ha presentato al mondo molti l'hanno deriso perché? Perché all'epoca c'erano queste grandi tower con gli schermi e quindi tutti hanno detto eh ma questo strumento non funzionerà perché siamo tutti abituati a vedere nel grande schermo, perché non si è abituati, lui ha detto no no, lo presentiamo al mondo, anche perché è uno strumento che è comodo a me perché io ho delle difficoltà e quindi io l'ho proprio pensato anche per le persone che hanno delle difficoltà particolari. Infatti prima di questo incontro abbiamo proprio anche fatto l'incontro sull'accessibilità dove ho presentato a chi era presente o chi mi ha ascoltato online anche tutta la parte relativa appunto all'accessibilità. Nel mondo quindi educational è comparso poi questo strumento perché è uno strumento molto semplice da mettere anche in cartella nello zaino, non è pesante, proprio prima di iniziare questa attività ne abbiamo discusso con i presenti del fatto che i ragazzi no, oggi hanno le cartelle già dalla primaria piene di libri, piene di quaderni e forse qualcosa potrebbero anche tenere a casa utilizzando un device. Viene quindi utilizzato sia dai più piccoli che dai più grandi e dai più anziani perché è molto accessibile. Tra l'altro è uno strumento che permette che cosa? L'iPad di potenziare la creatività. Per molto tempo, e spero siate d'accordo con me su questa mia affermazione, si è vista un po' tutta la parte digitale come una parte dell'informatica un po' chiusa, uno doveva saper programmare. Io mi ricordo quando mi sono avvicinata, quando avevo 16 anni all'utilizzo proprio dei primi computer, pensavo di aver utilizzato un Commodore 64 all'epoca e c'era la tartarughina, quindi il logo che si muoveva e il mio professore all'epoca mi aveva mostrato come dovevo programmare coi diagrammi di flusso, eccetera, eccetera. Poi per un periodo questa parte è stata dimenticata, perché? Perché sono entrati appunto gli iPhone, gli iPad, questi strumenti molto facili nella gestione e tra l'altro è anche stata dimenticata un po' tutta quella parte della creatività, ossia l'utilizzo di questi strumenti non solo per programmare ma quindi anche per disegnare, per creare video, podcast, insomma strumenti che anche con l'avanzare del digitale comunque si sono ampliate nelle funzioni e quindi possono essere utilizzate per molti campi. Passo via veloce perché questo video non si vede perché sono in duplicazione, quindi ecco qui no, vedete abbiamo i vari device dal MacBook all'iPad e poi avremo anche l'iPhone e è importante anche capire che comunque questi strumenti lavorano e sono presenti in tutto il mondo e c'è un programma appunto il programma Apple Teacher che permette a ben, vedete, insegnanti di 36 paesi di entrare in questo programma che in realtà è una piattaforma libera, gratuita e attraverso tutorial e attraverso anche delle risorse che sono all'interno dell'area Learning Center di acquisire nuove competenze nella didattica. Tra l'altro da pochissimo, da un mese e mezzo questa parte è stata ampliata, è diventata Education Community, Apple Teacher si è trasformato in Education Community, e all'interno dell'Education Community c'è anche un forum con cui noi docenti italiani sarà attiva, si presume, dall'anno prossimo, ma per ora tutti i docenti di lingua inglese possono anche interagire fra di loro, postare le attività in modo gratuito e chi entra può anche scaricarsene in modo gratuito, quindi una banca dati di risorse di quasi tutto il mondo. Ecco, per chi volesse entrare potete entrare quindi nell'Education Community, se vuoi chi è presente, ecco, ti chiami, scusa? Non mi ricordo qui, ok, Filippo, quindi lo tengo come esempio, Filippo qui. Allora, Filippo, ecco, se vuoi entrare puoi andare in Education, oppure anche puoi inquadrare direttamente il QR Code, ma se lo stai già facendo scrivendolo su Safari, ecco, potete quindi da casa inquadrare il QR Code oppure anche chi è presente inquadrarlo, oppure scrivere su safarieducation.apple.com e si entra nell'Education Community. Adesso magari lo faccio anch'io insieme a voi, quindi tolgo in velocità questa presentazione, entro su Safari e vado a scrivere Education, eccolo qua, ce l'ho già, Education Community di Apple. Allora, all'interno dell'Education Community abbiamo, come vedete sopra in alto, Learning Center, Forum, Get Help e proprio a destra il simbolo del cerchietto persona che se fate tap sopra vi rimanda appunto nell'area dell'iscrizione. Per iscriversi però dovete avere un vostro ID Apple, se non l'avete si fa prestissimo a creare un ID Apple. Una volta quindi che avete inserito il vostro ID Apple, ora io lo faccio, eccolo qua, io ce l'ho già e come avete visto avendo tra l'altro un iPad con il Face ID mi ha recuperato anche subito la password, ed entro nella mia Education Community. Magari aspetto un attimino che se Filippo e qualcun altro che in presenza vuole provare ad accedere, aspetto, quindi facciate tutto il percorso. Ecco, sicuramente chi si sta iscrivendo ora sta notando che vengono anche richieste alcune cose, per esempio l'istituto di appartenenza, dove si abita. Perché? Perché vi ho detto proprio all'inizio che il percorso si chiama Apple Teacher. Perché? Perché facendo questo percorso l'insegnante oltre appunto ad avere accesso a tutte le risorse ha anche la possibilità di diventare un Apple Teacher, quindi di prendere una qualifica. che in realtà non è un'unica qualifica, perché una volta diventato Apple Teacher l'area Learning Center sblocca altre funzioni, quindi si superano dei quiz che vedremo adesso assieme, e questo quindi, l'essere diventato Apple Teacher permette di prendere altri due attestati, che sono l'Apple Teacher Portfolio e l'Apple Teacher Swift Playground. Questi attestati vengono rilasciati in automatico dalla piattaforma e in realtà non hanno un valore diciamo burocratico, però io vi faccio un esempio, io per accedere a determinati magari concorsi come formatrice in alcuni ambiti mi è stato proprio richiesto di essere un Apple Teacher e quindi mi ha dato la possibilità magari di passare avanti nella gradatoria grazie a questo attestato. Allora, aspetto magari un attimino, ci sei? Aspetto? Quasi, vado avanti? Ok, allora, cosa vediamo in alto? Beh, puoi anche fare a casa in caso, potete anche iscrivervi dopo. Abbiamo quindi il Learning Center, io ve lo faccio vedere direttamente da qui e poi ritorno un attimino alle slide. Il Learning Center, vedete, consta di tutta la parte che c'è sopra che si sta anche muovendo, di queste immagini in realtà tutte queste immagini che compaiono nello schermo, che state vedendo ora nello schermo sono dei link alle risorse. Quindi facendo tap sopra, per esempio guardate Everyone can create venite rinviati in automatico nell'area dove si trovano tutte le risorse adesso io ce l'ho in lingua inglese ma, per quello che anche ho spiegato nel workshop precedente in alto abbiamo le due A eccole qua che mi permettono di andare alla traduzione del sito in italiano in automatico quindi vedete in automatico poi vediamo se adesso me lo visualizza in originale per un po' difficoltà ora per lo streaming è il passaggio nella lingua richiesta ma comunque se lo state facendo a casa sicuramente mettendo lingua italiana poi vediamo adesso non me lo dà proprio per il discorso streaming e wifi comunque potete in automatico avere la traduzione qui all'interno cosa troviamo? quindi troviamo tantissime risorse tra l'altro risorse che possono essere scaricate gratuitamente e riutilizzate perché sono anche libere da copyright con i vostri studenti in classe torno ora schiacciando in alto a sinistra sulla pagina iniziale e come vedete nella pagina iniziale abbiamo anche Your Apple Teacher Journal che è la pagina che dovrete andare ad attivare nel momento in cui volete diventare degli Apple Teacher prima però di attivare quella pagina io vi consiglio se non siete già super abituati ad utilizzare l'iPad o anche se lo siete già di andare nell'area dedicata alle skills vedete in basso abbiamo foundation skills eccola qua quest'area consta di tantissimi tutorial che riguardano sia il Mac che l'iPad che potete guardarvi in modo proprio tranquillo è una cosa non ho detta tutta la piattaforma education community e tutto quello che è all'interno è completamente gratuito ok? quindi potete scaricare qualsiasi cosa e potete diventare Apple Teacher tra l'altro in qualsiasi momento che vogliate partite adesso vi mostrerò con delle domande con dei quiz e vi stancate beh lo chiudete ripartite il giorno dopo e la piattaforma vi farà ripartire da dove vi siete fermati qui appunto vedete queste risorse e torno però un attimo alle mie slide eccole qua così faccio vedere in velocità ecco la piattaforma che però vi ho già fatto vedere ma poi entrerò nuovamente su questa perché? perché nell'area eccole qua no vi dicevo prima quindi del diventare Apple Teacher troverete un percorso che vi farà andare alla conquista dei beige dei beige sono queste stelline i beige quindi di Apple Teacher sono quelli gialli poi vi ho detto che una volta diventati Apple Teacher si può diventare Apple Teacher Portfolio Apple Teachers with Playground che sono quindi le stelline contraddistinti insomma questi percorsi dalla stellina azzura e dalla stellina arancione guardate qua come funziona allora per diventare degli Apple Teacher bisogna fare che cosa? superare dei quiz i quiz sono cinque per ogni area e si possono prendere sia per iPad e per Mac non si devono prendere entrambi se volete sì perché? perché comunque anche rispondere alle domande va un po' a testare le nostre competenze io spesso le faccio queste domande mi diverto a farle proprio per vedere se c'è qualcosa che magari non so anche perché nel momento in cui si sbaglia non succede niente o meglio potete ricominciare all'infinito quando volete perché la piattaforma appunto si basa sul fatto di sbagliando si impara non si viene bloccati come magari altri test che si trovano online perché proprio anche nel momento e poi lo farò vedere in cui si sbaglia a rispondere la piattaforma dà un feedback ed ha anche un link di rimando alla risorsa dove si può andare a capire perché si è sbagliato e questo io lo trovo veramente molto utile quindi sono cinque domande per ogni sezione le sezioni sono guardate uno, due, tre quattro, cinque, sei quindi sei per cinque trenta sono trenta domande se si sbaglia una domanda per ogni sezione quindi se ne fanno giuste quattro su cinque si passa ugualmente e alla conquista vedete dei cinque beige ok però se se ne sbagliano più di una quindi tre su cinque si rifà e non succede niente le domande sono quindici a random in realtà sono cinque che vi vengono proposte ma sono sempre le solite quindici che rigirano ogni tanto la piattaforma viene aggiornata però perché? perché vengono aggiornate anche le app però se voi siete diventati Apple Teacher e le app vengono aggiornate non dovete rifare i quiz nuovamente l'attestato di Apple Teacher vi rimane e tra l'altro nell'area proprio all'interno dell'Education Center rimane quindi nel Learning Center e anche nel profilo vostro che avete inserito nella vostra piattaforma vi rimangono proprio tutti gli attestati che potete scaricare quando volete e quando vi possono servire ecco vedete che poi c'è l'Apple Teacher Portfolio anche l'Apple Teacher Portfolio che cos'è? è un passo in più perché nel momento in cui si dimostra di essere diventati Apple Teacher quindi in un certo senso ho imparato a utilizzarlo l'iPad so cosa ho in mano devo anche dimostrare però che lo so utilizzare a livello didattico perché utilizzare le applicazioni non significa poi riuscire anche ad utilizzarle in classe con i nostri studenti anzi lo scoglio delle volte è anche quello so utilizzare un'applicazione ma adesso in classe come devo fare perché se lo utilizzo o utilizzo questa applicazione come utilizzassi un libro cartaceo o un testo normale molto probabilmente tanto vale che non lo utilizzi questa applicazione quindi è la metodologia che cambia quindi la parte dell'Apple Teacher Portfolio vengono proprio presentate delle attività che si possono replicare in classe e che quindi costringono o meglio non è bello utilizzare la parola costringono però fanno sì che anche il docente cambi un po' la propria metodologia e che comunque anche i ragazzi acquisiscono le capacità per imparare in modo diverso anche in modo creativo e quindi anche la situation il setting d'aula cambia e anche il modo quindi di apprendere dei ragazzi cambia poi abbiamo l'Apple Teacher Swift Playground questo invece permette che cosa? permette al docente di imparare il linguaggio della programmazione partendo da una base molto semplice che possono fare anche i ragazzini della scuola primaria utilizzando un'applicazione che si chiama Swift Playground che presenta quindi il linguaggio Swift fino ad arrivare proprio alla programmazione del linguaggio Swift che è il linguaggio in cui si programma per Apple allora adesso ritorno nuovamente alla mia education community entro nel mio learning center e vi faccio proprio vedere per esempio come rispondere come si risponde a questi quiz e da dove si parte allora vi dicevo prima che qua sopra adesso non riesco a capire perché lo continuo a avere in inglese ma vabbè non importa sapete che comunque quando è geolocalizzato in lingua italiana sarà in italiano abbiamo quindi la possibilità di entrare sull'Apple oppure facciamo una cosa scusate esco così vedete anche come si può uscire faccio sign out e sign out ed eccomi qua allora provo a entrare con un altro account vediamo se me lo da in lingua italiana vado qui ecco qua vado su un altro account che ho io così chi magari sta anche ritardando perché ok ora devo inserire il mio id Apple spero vada altrimenti devo tornare all'altro ecco no non me lo da niente torno a quello di prima scusatemi ho provato ma non riesce non riesce ad entrare con questo vado a vedere allora su questo iPad mi riconosce questo in automatico ecco qua ritorno in modo tale che anche vediate che basta solo inserire lì di Apple vado qui ecco qua ah ecco qua setto la lingua in italiano forse l'errore era questo era in inglese e forse dovreste allora quindi vederla in italiano ora vediamo un po' ecco qua così avete visto anche che si può settare la lingua questo non l'avevo controllato perché pensavo fosse addirittura ma all'inizio era proprio il sito che mi aveva preso quello inglese allora vado a fare che cosa ha il tuo percorso Apple Teacher eccolo qua che potete fare anche in lingua inglese perché avete visto dal proprio profilo account potete switchare da una lingua all'altra in alto vedete che ci sono le tre stelline che mi indicano i tre beige c'è anche questo simbolo più che permette di andare a vedere i progressi nel momento in cui voi avete ottenuto i beige man mano che rispondete correttamente alle domande queste stelline da opache diventeranno colorate quindi potete vedere anche i vostri progressi e poi è proprio da qua che potete anche scaricare il report torno un attimino indietro e rientro quindi sul tuo percorso Apple Teacher cosa succede poi scendendo vedete qui abbiamo sviluppa le abilità di base vi dicevo sono i tutorial che quindi potete andare a guardarvi magari ve li faccio vedere in modo abbastanza veloce perché il tempo corre più veloce di quello che sto facendo io ecco qua qui abbiamo le abilità di base come vi dicevo che permettono di scaricare risorse ad esempio anche questa risorsa di scaricare il diario è molto carina perché è un file in Keynote no in Pages scusate che magari ve lo faccio anche vedere che può essere scaricato con un semplice vedete tap si scarica e poi si va ad aprire direttamente in Pages si può anche condividere con i ragazzi via AirDrop e può essere utilizzata come anche attività dove loro si scrivono le attività che fanno oppure se sanno utilizzare o meno l'iPad oppure può essere anche modificato come template utilizzarlo come template di base per essere utilizzato per qualsiasi altra attività in realtà il diario nasce perché l'insegnante che comincia a rispondere magari alle varie domande può man mano tenere proprio un diario del percorso che sta facendo una specie di portfoglio proprio privato dove poi si può andare a vedere quello che si è fatto scendendo ecco qua vedete abbiamo acquisisci l'abilità e in questo caso parto dal primo iPad volendo si possono attivare subito anche le domande degli altri cioè non dobbiamo proprio seguire la scaletta parto da iPad che sono le funzioni di base e per ultimo faccio GarageBand se per caso io mi sento più sicuro perché utilizzo già GarageBand lo conosco bene posso anche partire subito dai quiz di GarageBand cosa succede nel momento in cui io apro quindi quest'area trovo iPad schermata Home per esempio quindi qui ho tutti i miei tutorial e in alto vedo comparire ottieni un beige vicino al mondo giusto di mappe ho la stellina vado a fare tap sulla stellina ed ecco che mi compare che cosa tutta l'area di rispondi alle domande del quiz ottieni un beige vedete che io ho scritto riavia quiz e continua perché perché io mi sono fermata perché altrimenti devo una volta che sia diventato Apple Teacher non si può più rifare i quiz bisognerebbe uscire dal sito eliminare tutto o inserire un altro di Apple quindi siccome io ho molti di Apple e mi servono anche per fare i corsi di formazione io mi devo bloccare oppure devo sbagliare non devo mai diventare Apple Teacher in questo in questo profilo altrimenti non potrei farvele vedere allora se io faccio riavia quiz partirò dalla prima domanda nuovamente se faccio continua è perché molto probabilmente l'altro giorno ho fatto un corso l'ho lasciato fermo là e adesso quello che potrebbe succedere anche a voi state facendo il quiz vi suona il campanello dovete andare via vabbè lo chiudete non importa il giorno dopo o anche dopo un mese riaprite schiacciate continua e partite da quella domanda vi faccio vedere però quindi le domande le domande possono essere come questa che è una domanda che chiede di mettere in ordine cronologico quello che si fa per fare una determinata cosa allora per esempio qui abbiamo stai leggendo un articolo interessante in Safari e vuoi salvarlo per un progetto di ricerca con la tua classe come puoi salvare l'intera pagina in pdf allora cosa significa che bisogna spostare vedete toccando le tre lineette in ordine cronologico le azioni che faccio la cosa più semplice per capire se sto facendo le azioni corrette perché a me è successo spesso quando rispondo ai quiz di rendermi conto che faccio le azioni senza sapere in realtà come le sto facendo perché siamo talmente abituati ad utilizzare questi strumenti che si fa in modo automatico e poi quando si torna indietro a riflettere ma come l'ho fatto diventa molto più complicato e quindi bisogna provare questa è una cosa anche carina da fare con i ragazzi a scuola perché loro sono digitalizzati ormai vivono in questo mondo però sono poco consapevoli di quello che fanno a livello digitale e sono anche poco consapevoli come lo sono anch'io spesso di che azioni faccio quando lo utilizzo allora la cosa più semplice sarebbe anche di fare questo tirare sul doc quindi vedete questo è il doc dove tutti le mie app le ultime che ho aperto le mie preferite e utilizzare un safari quindi eccolo qua anche se sono già in safari lo posso aprire lo metto di lato in multitasking perché con ipad adesso posso utilizzare più finestre aperte e anche quindi fare drag and drop copia e colla in modo automatico e fare l'azione cioè se sono dentro un sito adesso magari lo facciamo io uso sempre focus visto che prima nel corso precedente ero già entrata ce l'ho comodo cosa faccio? posso fare lo screenshot alla pagina web allora lo faccio o con l'apple pencil tirando su da un angolino posso fotografare oppure doppio usando i tasti laterali oppure tasto home oppure impostando un tocco singolo dando a un interruttore una funzione particolare posso fare ecco io ce l'ho qui ad esempio eccola qua l'ho fatta quindi faccio lo screenshot poi come posso fare quindi anche a salvarlo in pdf per l'intera pagina vado a provare e poi vado a rispondere io ora non vi faccio vedere la risposta corretta perché sennò diventerebbe troppo facile perché vi ho detto che sono ripetitive allora invia risposta vediamo se l'ho fatta giusta per sbaglio ma penso proprio di no ma l'ho fatto apposta anche perché volevo appunto farvi vedere quello che vi dicevo prima sbaglio va bene non succede niente ma forse mi devo ripassare i materiali su screenshot faccio tap su screenshot vado a vedere quindi tutti i tutorial che ho a disposizione e forse poi dopo anche averlo provato come vi ho mostrato io posso ritornare quindi su continua vedete e andare non subito ma la volta dopo perché magari se faccio giusto 4 domande su 5 quella l'ho sbagliata è ok ma posso continuare comunque il mio quiz ecco qua invece vedete qui invece dobbiamo andare a che cosa a selezionare più risposte quindi l'altra era metto in ordine cronologico qui invece seleziono più risposte quindi tu e un collega state esplorando le impostazioni di accessibilità che potrebbero aiutare gli studenti che stanno sviluppando le prime abilità linguistiche quali delle seguenti opzioni potete trovare nelle impostazioni contenuto letto ad altavoce accessibilità allora anche qui io consiglio sempre di andare a vedere su accessibilità su contenuto ad altavoce quali sono le opzioni e poi si potrebbe anche fare così quindi inserire di lato questo non è affiancato ma galleggia un pochino no? vedete da una parte all'altra e oppure rimane qui andare a vedere quali sono forse sono c'è leggi il testo selezionato sì c'è la velocità sì c'è l'evidenza contenuto sì c'è l'agita per annullare su contenuto letto ad altavoce no c'è abilità accesso guidato no perché sono altre funzioni dell'accessibilità che però non sono su contenuto letto ad altavoce ma ci sono in alto schiaccio qui sopra e posso anche tornare subito a tutto schermo ecco qua che quindi faccio invia risposta e come vedete mi dice che è corretta ecco quindi le domande vi ho detto sono 30 a cui dovete rispondere e sono più o meno tutte così dipende dall'applicazione ci sono le domande per Keynote per Pages per GarageBand per Numbers e poi per le impostazioni di base che sono quelle che le prime due qui che abbiamo visto assieme che sono strutturate più o meno allo stesso modo cosa abbiamo poi quindi una volta che siete diventati Apple Teacher vi ho detto adesso io torno un attimino indietro si sbloccherà un'area che è l'area appunto portfoglio allora adesso ve la faccio vedere eccola qua crea il tuo portfoglio Apple Teacher che è questa che potete comunque andare a vedere ugualmente io adesso qui non sono Apple Teacher dovrei entrare col mio altro profilo e quindi lo potete ugualmente vedere ma non potete andare ad acquisire le abilità perché? perché vedete che qua mi viene inizio il tuo percorso Apple Teacher se invece fossi già stata Apple Teacher qui sotto avrei clicca qui e comincia a creare il tuo portfoglio allora il portfoglio che cos'è? è lo vediamo qua scarica il modello di portfoglio ve lo faccio vedere è proprio un modello sempre in pages anche questo da insegnanti e insegnanti molto creativi potete anche riutilizzarlo quindi anche condividerlo con i ragazzi perché loro si creino il loro portfoglio oppure potete modificarlo perché sono in pages e quindi vedete ogni parte è modificabile cambiate il colore gli sfondi eccetera guardate qua nome dell'insegnante qua dice inserisci la tua foto si schiaccia quindi il segna posto e si va su foto e si inserisce il nome adesso questo lo faccio vedere adesso ho ancora attivato da prima feedback eccolo qua il ragazzo in caso ecco se volete utilizzarlo come vi dicevo prima e modificarlo per i vostri allunni scriveranno il loro nome qui abbiamo inserisci la tua foto crea il tuo teacher portfoglio e spiega spiega che cosa in realtà spiega che l'Apple Teacher Portfolio vi chiederà di creare delle attività e le dovete inserire in questo Apple Teacher Portfolio quindi qui in pages ma anche nella piattaforma perché la stessa cosa deve essere inserita qui perché poi questo va legato nella piattaforma questo pages ma anche nella piattaforma a livello digitale quindi vi viene fatta una doppia richiesta e cosa si deve fare adesso ve lo faccio vedere qua allora attivare attivare è l'area dove si fanno degli esempi quindi io docente faccio degli esempi di attività molto molto semplici corti proprio il nome attivare ce lo dice per invogliare quasi i ragazzi a fare delle attività quindi creo degli esempi darò il nome della lezione che ne so lezione di geografia che ne so le regioni italiane la classe metterò la materia elenca gli obiettivi di apprendimento per questa esperienza quindi devo mettere anche tutti gli obiettivi di apprendimento e poi qui posso inserire qualsiasi cosa schiacciando su foto le foto dei video anche solo una galleria di immagini dove spiego la mia attività e così via vedete le riflessioni si vanno a completare tutte queste aree e sono un bel po' perché sono nove le attività che vengono richieste tre per attivare tre per esplorare allora però nell'esplorare vedete qua un esempio creato da te di quello che ci si aspetta dagli studenti il primo faccio vedere un esempio in velocità poi uno un po' più complesso però guardate che poi e poi invece alla fine quando quindi hanno fatto è il mettere in pratica ossia adesso voi è la parte voi ragazzi provate a fare questo sono proprio questi passaggi e vanno tutti inseriti e sono tre attività per ogni passaggio alla fine viene richiesto di inserire un video di tutte le attività fatte all'interno di questo pages e il pages completo va inserito all'interno della piattaforma perché verrà richiesta quindi la consegna prima bisogna fare quindi tutte le aree e poi inserire anche questo pages quello che quindi viene scritto qui anche semplicemente con un copio e incolla si deve inserire all'interno della piattaforma oppure prima si inserisce nei moduli all'interno della piattaforma e poi all'interno del portfoglio l'altra e ultima area che vi voglio ora presentare quindi ritorno nel mio learning center è l'area dedicata che abbiamo visto prima eccolo qua sviluppare in swift quindi l'area dedicata alla programmazione tutta quest'area come vi dicevo può essere spunto appunto per gli insegnanti per iniziare un programma di programmazione anche con i ragazzini più piccoli per esempio ragazzini di terza primaria perché abbiamo l'applicazione Swift Playground che è un'applicazione veramente carina adesso magari poi ve la faccio vedere se mi resta un pochino di tempo e all'interno comunque di quest'area ci sono anche moltissime guide che l'insegnante può quindi scaricare e poi utilizzare con i propri studenti quindi si passa proprio da un grado basic della programmazione poi a un grado molto più elevato ossia lo sviluppare quindi programmare in Swift che fa parte anche delle accademie dopo universitarie quindi anche le scuole superiori ogni area comunque dà anche la possibilità con un semplice setup di essere indirizzati su libri quindi in un book store e di scaricare le guide per poi essere utilizzate dai docenti le guide quelle in bianco dai ragazzi le guide arancioni anche se io lo ammetto io utilizzo spesso le guide arancioni per imparare perché nel momento in cui io sono lo studente non significa che sono lo studente di scuola ma sono colui che deve imparare mentre nella guida bianca c'è tutta la parte dedicata a come quindi introdurre quindi proprio la guida didattica con cui siamo abituati noi docenti italiani in particolare su come poi proporre l'attività ai ragazzi quindi quello che c'è scritto all'interno della guida bianca lo troviamo poi invece in attività nella guida arancione che faranno i ragazzi ecco torno un attimino indietro e vi faccio vedere quest'ultima parte che riguarda le ulteriori risorse per esempio c'è anche la risorsa che è slegata dal diventare Apple Teacher o Apple Teacher Portfolio o Apple Teacher Swift Playground ma sono delle aree con delle risorse in più andiamo a vedere per esempio proprio quella della realtà aumentata anche qui ci sono dei percorsi e anche delle schede che si possono scaricare e spiegano passo passo a noi docenti quale sono le app che per il momento Apple propone e sono del solito anche delle app gratuite per essere utilizzate a scuola ecco qua vedete semplicemente con un semplice tap per esempio si può andare a scaricare questa bellissima applicazione R-Maker che permette di creare in realtà aumentata cioè degli oggetti e quindi si crea un ambiente aumentato può essere utilizzata fin dalla scuola dell'infanzia perché è proprio un'app dedicata ai bambini più piccoli ma anche poi ai ragazzi più grandi perché dipende appunto che attività si fa in R-Maker in questo caso non si è fruitori di realtà aumentata ma si è autori si è produttori di realtà aumentata e questo è molto importante perché io torno sempre a dire che i nostri allunni non devono essere fruitori del digitale ma devono essere ragazzi consapevoli devono quindi imparare a programmare e a produrre learning object altrimenti si scontreranno sempre con il digitale non capiranno mai cosa stanno facendo saper costruire quindi un'app attraverso la programmazione oppure creare in realtà aumentata significa anche comprendere in realtà cosa si può fare con il digitale e avere maggior consapevolezza vi faccio magari vedere un attimino R-Maker eccola qua non so se c'è nell'iPad e volete provarla provo a andare a vedere un attimino oppure chi mi sta guardando online potete scaricarla direttamente dall'app store c'è vediamo un po' in caso la faccio vedere ecco vedete basta solo fare tap su start e compaiono questi template vi dicevo no prima che è per bambini abbastanza piccoli ma in realtà abbiamo anche create questo iniziale quindi posso fare start ed ecco che parto da un template bianco e qui posso andare proprio a selezionarmi l'area dove andrò ad inserire i miei stickers che avevo preparato o all'interno dell'app o in precedenza ed ecco che si può creare questa realtà questo ambiente aumentato che posso poi andare a modificare posso andare a registrare ma mi servirebbero due ore solo per mostrarvi l'uso di questa applicazione torno e poi chiudo quindi anche questo incontro nel learning center per farvi vedere che cosa che appunto scorrendo in alto abbiamo anche sfide di creatività creatività per tutti assistenza per la didattica in distanza questa è un'area che è stata creata da Apple proprio nel momento in cui c'è stato il lockdown e quindi ha pensato bene di dare delle attività di aiutare gli insegnanti di tutto il mondo a come utilizzare anche a distanza questi strumenti ed è stato molto molto utile per tutti ve lo faccio vi faccio vedere per esempio adesso creatività per tutti andiamo un attimo ecco qui vedete creatività per tutti all'interno di creatività per tutti ci sono moltissime attività da scaricare le attività introduttive ad esempio inizia con 30 attività creative per bambini dedicati ai bambini più piccoli abbiamo le guide ai progetti anche queste gratuite quindi veramente se siete insegnanti all'ascolto scaricatele perché sono molto utili addirittura all'interno di queste guide quelle bianche ci sono anche proprio dei file in numbers che potete scaricare che vi possono anche aiutare a valutare se il prodotto creato dai ragazzi a livello digitale è adeguato o meno e quindi ci sono delle rubriche di valutazione che potete utilizzare e condividere anche con i vostri colleghi e poi vedete abbiamo anche i workbook ecco il fatto di poter scaricare questi workbook in pages oppure anche delle presentazioni in keynote molto utile perché vi dicevo le potete anche modificare e farne l'uso che volete ecco questo in linea di massima è il percorso che propone la piattaforma Learning Center come vi dicevo basta solo iscriversi potete ottenere quindi i page per diventare degli Apple Teacher nei tempi nelle modalità nei momenti che più vi aggradano non preoccupatevi se sbagliate perché potete riprendere i quiz quando volete bene io ho finito vi auguro una buona serata e grazie grazie grazie